Allora, adesso è da eseguito il disegno principale di batteria, con il fonema che utilizziamo per la cassa, quindi punto. Questo invece è lo stesso disegno, ricondosciato con il suono che si aprirò l'altro. Prima l'anunizzazione, seconda l'anunizzazione, a questo punto abbiamo una fase di poter cantare la melodia principale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.